Ciao ragazzi, sono Irene Colzi del blog Irene's Closet e sono qua per darvi qualche consiglio in fatto di moda e oggi parliamo di questo golf very simple a fantasia a cuori rossi quindi molto romantici che io abbinerei con questi pantaloncini effetto used, una sciarpa rossa in lana lunga molto avvolgente, un paio di decoltè col tacco romantiche e infine completerei il tutto con un cerchietto rosso laccato quindi un outfit romantico ideale per la scena con il proprio fidanzato. Ciao ragazze! Ciao!